Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici! Proclamiamo dall'inizio di questo giorno che Gesù è il Signore, è la nostra forza e la Sua parola anche oggi ci incoraggia ad andare avanti. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 29-33. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli una parabola. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi guardandoli che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il Regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Amen. Carissimi, sempre siamo in questo capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, sempre in questo discorso escatologico riguardante quindi la fine dei tempi e anche i segni dei tempi che da duemila anni ci accompagnano, da quando Cristo è risorto. E oggi Gesù ci invita ad essere attenti nella nostra vita. Attenti non solo ai segni dei tempi, ma attenti anche alle cose su cui noi fissiamo e diamo attenzione. Quanto è importante vivere con un atteggiamento di fiducia? Quanto è importante che i nostri occhi, dice San Paolo, si fissino non sulle cose che passano, ma sulle cose che sono eterne, incorruttibili. E oggi Gesù ci dice che cos'è incorruttibile e che cosa non passerà mai. Dice la mia parola non passerà. Amen. Ecco perché noi abbiamo oggi una medicina per vivere bene questa attesa. La medicina, potremmo dire, è sempre quella, la parola di Dio. Perché questa non passa mai. Perché nella parola di Dio noi troviamo tutte le risposte. Noi troviamo ogni situazione che stiamo vivendo, ma troviamo soprattutto come risolvere quelle situazioni. Troviamo le risposte da parte di Dio. Perché è Gesù stesso che sa che il Padre tutto ciò che ha promesso lo manterrà. quanto sia importante ogni giorno leggere almeno un capitolo, due capitoli, tre capitoli del Vangelo e anche uno, due, tre salmi. Leggerli, proclamarli a voce alta e fare in modo che ciò che noi leggiamo diventi realtà. Perché, come è scritto in Giovanni 1, il verbo si è fatto carne. E poiché la parola di Dio è viva e non passa mai, quando io la pronuncio, la leggo a voce alta e la proclamo nella mia vita, si fa carne. Ecco perché San Paolo nella lettera agli ebrei dice che la parola di Dio è vivente, è viva e noi la possiamo sperimentare. Allora oggi vediamo questa medicina meravigliosa, il verbo di Dio, la Bibbia, che noi dovremmo comunque avere nelle nostre case una Bibbia per membro della famiglia. ce l'ha il marito, ce l'ha la moglie, la propria Bibbia personale, ce l'hanno i figli e ognuno legge in un momento preciso, in uno spazio preciso, la sua parola e proclama che quella parola si fa carne. Questo è l'atteggiamento che aveva Maria. Aveva ascoltato la parola di Dio dall'angelo, da questi annunci sul concepimento di Gesù ha creduto, le ha proclamate. Ecco per noi cristiani quanto è importante fissare il nostro sguardo quindi non tanto sulle cose che ci circondano e che passano, perché Gesù dice cielo e terra passeranno, tante notizie passeranno, ma il verbo di Dio Gesù e la sua parola non passerà mai. Ecco perché noi dobbiamo abituarci quotidianamente, non solo con questi pochi versetti, oggi ne abbiamo solo quattro, che questa sia un supplemento alla nostra preghiera personale. Mentre la nostra preghiera personale si fondi su capitoli interi del Vangelo, delle lettere di San Paolo, su salmi che anche la liturgia ogni giorno ci propone, ecco che allora il nostro cuore non temerà perché è ancorato sull'unica cosa che durerà per sempre, la sua parola. Ecco allora vi lancio oggi questo slogan, tutto passerà ma la sua parola non passerà. Ripetilo più volte oggi, quando qualcosa di male ti accade, quando sei preoccupato, hai delle difficoltà, queste cose passeranno ma la parola di Dio non passerà. Amen? Allora diciamo al Signore Gesù grazie Signore, io ti benedico Signore Gesù perché sei un Dio grande, sei un Dio buono, sei un Dio che mi ha dato una parola franca, una parola semplice e una parola che si fa caro. Grazie perché la tua promessa è venuta a trovarmi anche oggi nella mia vita, la tua promessa mi raggiunge nella mia casa, nella mia famiglia, nelle mie attività e nel mio lavoro. Signore desidero sempre più imparare la tua parola, impararla a memoria, proclamare che le tue misericordie non sono finite e proclamare che il tuo progetto è grande. A te Signore Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici di fronte a questa parola, allora io vi spingo, se non avete un membro per famiglia la propria Bibbia, compratela. È vero che c'è anche sul cellulare, sul web, sul tablet, ma la Bibbia che sia proprio fisica, perché questa Bibbia la potete anche sottolineare, leggere, proclamare ed è vostra e Dio vi parlerà. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della coinonia Giovanni Battista, oasi di Piella. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao.